Ciao a tutti, sono Nicolio. Con questo video tutorial voglio mostrarvi come funziona l'app SoundSight. Fa parte di gruppo Knight Lab e l'url del sito internet di quest'app è www.soundsight.knightlab.com come potete vedere scritto qui. Allora, quest'app serve per tagliare dei file audio e dopo poterli mettere all'interno del vostro sito internet o del vostro blog. Come potrete poi leggere all'interno del sito, di solito questi audio vengono usati per dare enfasi magari a un testo scritto o un'immagine. Dopo comunque ognuno li usa come vuole. Per creare questo file audio si schiaccia su Make a Clip e ti porterà a fine pagina. In tre mosse voi riuscirete a tagliare e creare appunto questo file audio. Allora, l'audio innanzitutto lo prendete da SoundCloud copiando e incollando l'url. Oppure mettendo in internet un vostro file audio mp3, m4a, wav o og e dopo appunto copiando sempre, copiando e incollando l'url e mettendolo appunto sempre qui. O appunto andate su SoundCloud e adesso non lo farò. Userò direttamente l'url che c'è qua sotto nel sito. clicco e si caricherà il file automaticamente. Potrete in questo modo schiacciando Play ascoltarlo e capire a che minuti magari tagliarlo. Una volta deciso questo, su Start Time ed End Time cambiate i minuti di inizio e fine dell'audio. Una volta appunto cambiati, schiacciate Create Clip, cliccate, scusate, e qua sotto vi verrà fuori il clip tagliato. Sull'istan potrete ascoltare l'audio e vedere se vi va bene come l'avete tagliato, se l'avete tagliato nei punti giusti. Se no, ripetendo l'azione comunque potrete rifare tutto da capo e creando un altro, insomma, che minuti di inizio e fine giusti. Una volta finito questo, avrete questi due codici. Questo, che è un codice fisso, diciamo, e poi questo che invece è la qualifica del codice del vostro file audio tagliato, insomma, quello che avete creato voi. Basterà semplicemente mettere sul vostro sito internet a inizio pagina questo codice qua e nel punto in cui volete il file audio quest'altro codice qua per appunto avere il file all'interno del vostro sito o del vostro blogger. E questo è quanto. Ciao!